È ancora più bello, ancora più emozionante stringere il rapporto con il popolo grigio-rosso. Parla da condottiero Fabio Pecchia, lo fa assorbendo l'entusiasmo dei tifosi al centro Arvedi, metabolizzando la sconfitta col Frosinone e dirottando le pressioni altrove. Nonostante le quattro partite io credo che sia veramente lunga, può succedere di tutto. Con sei squadre in cinque punti, tutte in lotta per i primi due posti al sole, per il mister grigio-rosso le sorprese non sono da escludere. Come sorprendente è stata la vittoria del Cosenza col Benevento, un successo dei prossimi avversari della Cremonese che incarna in pieno lo spirito battagliero di Pierpaolo Bisoli. Di lascio a un allenatore bisogna fargli complimenti perché se adesso la Cremo può giocare e può fare quello che ha fatto, perché ha fatto un lavoro straordinario due anni fa. Senza gli infortunati Ocoli, Valeri e Bartolomei e con Strizzolo squalificato, la Cremonese che lunedì alle 15 sfiderà il Cosenza all'Ozzini, manterrà la stessa identità plasmata in 15 mesi di gestione pecchia, partendo anche da certezze di classifica. Raggiungere il playoff è un altro obiettivo, ma questo è da sottolineare per la bontà del lavoro svolto, ripeto, dal club, da tutti, lo staff, da tutto quello che c'è, dalla squadra, dai ragazzi. Ma il lavoro è ancora lungo, quindi continuiamo a volerci migliorare.